Musica Giornataccia per l'atletico marcianise che perde l'imbattibilità casalinga cedendo 4-1 al Cus Caserta. Il derby di terra di lavoro sorride ai rosso-blu che con una gara straordinaria violano il palanoia confermandosi minavagante del girone. Difese e contropiede, queste le armi per battere la vicecapolista. Al resto ci hanno pensato gli avversari apparsi un po' sotto tono. Al quarto servo di Dio si procura ma non trasforma un calcio di rigore. Scialla lo aggancia in aria dal dischetto e il capitano colpisce il palo. Ancora il numero 4 protagonista quando tutto solo spara alto da ottima posizione. Risposto di Daniele dalla distanza ma Piccirillo è attento. In poco più di un minuto Cussini nuovamente pericolosi con Daniele e Cardillo che seminano il panico tra la difesa giallo-blu ma sbattono contro il muro palladino. Il mare è poco lucido negli ultimi 10 metri e concede rapida ripartenza agli ospiti che prima si divorrono ancora con Servo di Dio il pallone del vantaggio. Poi lo trovano con Borrelli ma si distralmente assistito da Silvio Daniello. Nella ripresa Scialla prova subito a ristabilire la parità ma la sfera è sul fondo. Inizia il Piccirillo Show che sventa su Daniele e Vincenzo De Angelis. Palladino è altrettanto bravo su Daniello e il derby resta in equilibrio. Di Martino ci prova con un tiro potente ma conquista solo un angolo. Sale allora in cattedra Pinna che dalla destra mette in mezzo per Daniello. Finta e tiro che con un pizzico di fortuna finisce in rete. Strada sempre più in salita anche perché l'ex Piccirillo chiude la sara cinesca e in contropiede Servo di Dio triplica con un cucchiaio tanto bello quanto efficace. Di Carluccio schiera Daniele come portiere di movimento ma la rete arriva troppo tardi. La griffa generoso Scialla. C'è ancora tempo per vedere segnare Alessio Borrelli direttamente dalla sua metà campo. Finisce 4-1. Gioia casertana per un risultato inatteso. L'atletico dovrà rifarsi al più presto per evitare di perdere terreno dalla vetta. Credo che comunque pur non giocando un'ottima partita abbiamo prodotto molto di più dei nostri avversari. Però loro sono stati molto più concreti, molto più cinici. Quindi a loro va dato atto di aver disputato una gara orgogliosa e tenace. Soprattutto Piccirillo che tra l'altro è il nostro tesserato. Quindi faccio complimenti a Pietro e faccio complimenti al Cusso per la partita che ha giocato. Però credo che noi pur non giocando una gran partita forse meritavamo qualcosina in più. Il risultato che vale doppio perché è fatto contro una squadra grandissima. Io ho detto all'inizio del campionato la più forte sicuramente. Oggi abbiamo giocato la partita perfetta come giustamente hai detto tu.